A luglio sulla base dei dati di Asso Turismo, la Puglia si conferma tra le mete preferite dagli italiani, mentre nel Salento è già boom di prenotazioni. A dirlo è la Col Diretti regionale. Sentiamo. Sulla base dei dati elaborati da Asso Turismo, la Puglia si conferma tra le mete più scelte dai turisti per il mare, le campagne e gli agriturismi, con il Salento che primeggia, grazie all'80% di occupazione delle strutture ricettive, già nel primo weekend di luglio. A rivelarlo è la Col Diretti Puglia. Nei primi giorni di luglio, infatti, il tasso di occupazione della disponibilità ricettiva delle principali riviere italiane ha visto la Puglia raggiungere il 73% delle presenze. Per la Col Diretti regionale, i piccoli comuni pugliesi sono 87 tra i più belli d'Italia, dei quali 42 in provincia di Lecce, 38 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto e 2 in provincia di Bari. A questi si aggiunge l'importanza dell'80% delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, appartenenti alla miriade di produzioni locali tradizionali. In quest'estate, oltre 7 italiani su 10, circa il 72%, andranno in agriturismo per trascorrere le proprie vacanze o anche per gustare i prodotti tipici regionali, che rappresentano il simbolo di una nuova tendenza verso il turismo green e sostenibile. Il mare è tra i protagonisti principali di questa stagione estiva, ma Col Diretti Puglia sottolinea che c'è anche un'Italia cosiddetta minore, dai parchi alla campagna fino ai piccoli borghi che fanno da traino al turismo enogastronomico con il 33% dei piccoli comuni pugliesi tra i più belli d'Italia, dove si conservano le antiche tradizioni enogastronomiche e rurali e incrementano così il ventaglio di offerta di un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico, senza eguali. Si tratta di un plus valore che consente di valorizzare l'immenso patrimonio storico e culturale dell'enogastronomia, da cui dipendono molte delle opportunità di crescita economica e occupazionale dell'intero territorio pugliese.